Noi due ora facciamo un patto, ogni volta che dici voglio, ti prendi uno di questi. Chiedimelo senza dire voglio. Posso telefonare a mio fratello? Che cosa fa tuo fratello? Lavora con me per Betim. Domani torno con una carta SIM e un cellulare e lo chiami davanti a me.